Ciao a tutti ragazzi e ragazze! Nello scorso video io vi avevo rappresentato il mio vestito da carnivale gatta Invece questo video farò un'intervista a me stessa Allora, vi volevo già dire che io sono la sorella di un calciatore, Gabriele Capanni Seguitelo su Instagram e su tutto, vabbè, tanto andrà in prima squadra di sicuro Vabbè, non fa niente Ora dovete solo ascoltarvi, ok? Allora, perché, dato che questo è il mio secondo video, mi intervisterò meglio Perché? Perché mi voglio far conoscere meglio L'altra volta ho fatto ciao ciao e no, perché ero presa dal panico Allora, questa volta mi rappresenterò meglio Ok, mi chiamo Veronica, cognome Capanni Il mio colore preferito è blu perché non so se questa frase ha senso Ma mi fa pensare all'intenso del mare Sono molto legata alla mia classe, alla mia famiglia, alla mia migliore amica Al mio fidanzato E poi Certo, ai miei amici Guarderei volentieri molto spesso il film Piccola Contessina O sui fratelli Poi mi piacciono le canzoni di Riccardo e Marcuzzi perché è il mio cantante preferito Veramente ragazzi, vorrei fare un video su YouTube con lui Infatti appena, cioè, quando vado a rivederlo Io gli chiedo se puoi fare un video con me su YouTube Vabbè, i miei YouTubers preferiti Sono i Pantellas, Favijail, Lady Giorgia e Favijail Favijail mi piacciono soprattutto i suoi video quando fanno Minecraft, è molto bravo Poi Pantellas, i Favijail, eh, Pantellas e i Mates Mi piacciono soprattutto per le parodie che fanno E poi i Pantellas per la nonna, per la mamma Che mi dà Jacopo E vabbè Lady Giorgia per i suoi slime Che a me mi viene nervoso quando non riesco a farli Perché su YouTube mandano i video quelli dei 7 anni Che sanno fare i slime, quelli fluffy Io non riesco a fare nemmeno uno Ho provato anche prima, ve lo giuro Guardate, guardate, guardate Ma che schifo, che schifo Cioè, mi viene nervoso Le giuro, eh Vabbè Ehm Niente Ok Ehm Spero che mi affezionerò anche a voi Facendo tanti video su YouTube Ehm 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 Spero che riceverò tanti like Mi ha fatto piacere fare questo video E farmi intervistare per voi E niente Ciao ciao ragazzi Ragazzi